Giovedì 8 febbraio si ride con la stand-up comedy di Paola Minaccioni in Stupida Show, una spietata confessione che porta sotto i riflettori tutti i vizi, i lati oscuri e le frustrazioni di una donna alle prese con il mondo contemporaneo. Appuntamento alle ore 21 in via Villa Franca 5 a Bosco Nero. Dissimilis è realizzata dall'associazione Nuove Forme con la collaborazione di Piemonte Dal Vivo. Info e biglietti su nuoveforme.com, media partner Radio Bioenergy.